questi sono i miei supereroi vedo, bella presentazione, grazie, a più cosa? tartaruga ninja? sono assurde! sei una super perdente con la maschera batti il 5? le sta bene cosi? santo cielo, cosa ci hanno portato le tubature? sembrerebbe, assomiglia molto a... what? diamo un'occhiata più da vicino ehi ragazzi, venite qui fermatevi e guardate lo vedete anche voi? tartaruga ninja, sono una schifezza sei una super perdente con la maschera dobbiamo aiutare quella piccola mickey, cosa sei? congelato? vai avanti donatello, vai avanti ma dove andiamo? vediamo la scuola è da quella parte perdente, perdente, perdente le tartaruga ninja non sono reali credo che siano loro ragazzi evviva! ce l'avete fatta tartaruga ninja brutte tartarughe erano qui c'è qualcuno c'è qualcuno tu dimmi, hai visto le tartarughe? oh, giusto sono andate da quella parte sei sicuro? bene come ti sembra? da paura posso provare? ecco la spada baci piano ok no, 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 no credo che tu non sia abbastanza adulta per giocarci dammi la katana c'è un mucchio di roba entusiasmante che bel colore cos'è questo? un liquido misterioso ehi, vuoi darci un pugno? lo vorrei davvero mettiti qui e colpisci più forte che puoi ecco fatto forza dai un colpo raffaello una bimba ti ha messo K.O. pizza è una pizza chi ti credi di essere? stai torturando una pizza perché lo hai fatto? prova a quanto pare il cuoco ha mangiato tutto succede incredibile e deliziosa pizza fatta su misura per le tartarughe ninja e soprattutto senza acciughe pizza tartarughe cosa? cioè, dove sono tutti? almeno posso prendere la ragazza odio gli skateboard urlare non serve a nulla aiuto liberatemi siediti e chiudi la bocca non è sotto il cuscino oh, ho trovato qualcos'altro questa immagine è un indizio o qualcosa del genere? sono confuso girala ci vediamo al cinema eccoci qua ehi, Shredder dov'è la piccola? vuoi dire la ragazza? al cinema aiutatemi ehi, piccola oggi batteremo pezzo di latta ah, sì? provateci addio tartaruga ecco cosa ottieni per avermi messo in difficoltà sì, ha funzionato ti farò assaggiare la mia lama ops, si è incastrato ehi, Shredder ti sei dimenticato di me? cosa c'è, nanerottolo? oi, ci incontreremo di nuovo un nuovo video sul canale delle tartarughe ninja bella foto mi sono venuto meglio di tutti gli altri ehi, dove stai andando? giochiamo al nascondino ok alletta, dove mi devo nascondere? un piccolo cieco non c'è nessun posto dove scappare sei proprio morto, mutante preparati, sarà veloce nooo bel coniglietto ecco chi eri prima della mutazione pensa a questo come un ritorno alle origini non c'è abbastanza di questa sostanza chimica speciale me ne serve altra uno due tre cinque pronti o no, arrivo dove sono le tartarughe? ho la sensazione che siano nelle scatole Mickey Donnie Leo Raffaello beh, farò la punta ehi, ragazza chiudi il belgo ok, corri april ecco la mia prima cattura so dove ti nascondi, tartaruga rossa eh, perché sono così cattivi con me? ora basta, è l'ora della rivincita ecco la mia arma grazie scaua perdente oh cavolo, non farlo partarughe, vi rintraccerò aspetta, che cos'è? alcune invenzioni mi chiedo a cosa serva questa pistola la proverò su una delle scatole ehi, è rotta miau pistola cattiva rivolgo la mia testa forza oh, credo che abbia funzionato la mia testa è tornata mi è caduta non toccare le mie invenzioni non sono per te oh, l'ora la pagherai sei nei guai tutte tartarughe oh sì donni contro shredder uno a zero ora basta te ne pentirai, rettile no, 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 no sì, sì, sì sono invisibile no, ora stai in piedi ehi, shredder addio ninja è rimasta solo una tartaruga tutte le tartarughe amano la pizza le attirerò con il loro profumo pizza calda e gustosa pizza? leo, tieni duro sei in una scatola pizza mmm, che fetta gustosa chi vuole mangiarla? nessuno? peccato credo che finirà nella spazzatura cosa sta facendo? è terribile un'altra fetta qualche volontario? no mmm, che peccato il mio cuore non ce la fa un'ultima fetta è deliziosa e splendida la migliore pizza della città andrà sprecata purtroppo nessuno la mangia addio no l'ho salvata shredder dammi un momento finisco la pizza allora hai finito? stai ancora masticando? ok, avanti spara sono pronto finalmente giocchiamo alla pignatta vuota? ma come? dov'è la tartaruga? è rimasto solo il guscio? provo a scuoterlo un po' shredder stai sprecando il fiato? credo che questo sia il tuo guscio vuoi riaverlo? oh no non farlo ecco oh no oh no un vecchio lo cieco aiuto tesoro non c'è nessun posto dove scappare e nessuno ti salverà ehi chi è quello? Casey Jones guarda dovevate aspettarvelo? grazie Casey Jones ora dobbiamo portare i miei amici fuori dal bosco seguimi attivo la capsula mutagena sono una rockstar cattiva il mio piano perfetto ha funzionato diamo inizio alla trasformazione fermati fermati cosa? ma che succede? chi sei? sono quello che ti fermerà corri maialino i tartarughe devono stare qui ehi signor Shredder che c'è? hai perso ma che significa? come siete finiti qui? quella è la mia massa d'ok tornerò questo posto è figo guarda Donnie ma che c'è di sbagliato in lei? non può essere oh con questo tornerò di sicuro in forma fai con calma che buono aspetta questo ci servirà la mia pizza ti salverò ci è mancato poco ora sappiamo come recuperare le ragazze dobbiamo solo raccogliere il set delle tartarughe ninja ma dobbiamo ancora occuparci di Shredder e non dimentichiamoci del raggio se lo usa su di voi diventerete bambini che dobbiamo fare allora? calmatevi abbiamo un piano per prima cosa prendiamo le maschere così non sarete riconosciuti ok? ok ho appena trovato il tessuto per Donatello iniziamo a lavorarsi ti farò vedere cos'è la vera abilità chi ha? proprio come la pizza per prima cosa stendiamo l'impasto oh non abbiamo nemmeno bisogno del ferro da stiro siamo pronti siamo all'asilo finisci subito la maschera no le mani sporche di parina allora lascia fare a me chi ha? prendi questo ottima maschera proviamola fica grazie ora tocca a me fanne una anche per me per favore oh ehi Raffaello è questo che cerchi? toro non farmi arrabbiare Leo sarà mio che c'è sulla mia faccia? una maschera che bello grazie wow aumentiamo il livello anche per me fantastico più veloce andiamo al prossimo punto è questa la strada giusta guarda le tartarughe non sono in grado di gestire la potenza del mio raggio sei pronto Raffi? allora mettiamoci al lavoro ancora voi? brother vogliamo vendicarci ma non funzionerà lo vedremo ehi Leo che c'è Mickey? non lo vedi che sono occupato? sto facendo il tipo per te ehi ma che ti prende? mi stai solo distraendo alzati e combatti con me ricorda tutto quello che ti ho insegnato ok? non ho paura di voi balleremo sul tuo cadavere abbastanza chiaro per te oh che male è forte la mia migliore studentessa sono molto orgogliosa non c'è tempo di piangere dobbiamo combattere tritacarne le tue ultime parole oh block wow cos'è? non mangiarmi ok piano b oh siamo a casa? oh come stai? tutto bene? ehi Mikey un attimo solo un livello il mio salvataggio abbiamo il mutagene guarda qui ora riavremo i gusci di tartaruga delle ragazze allora versalo in fretta così drum trick ecco le nostre ragazze belle come non mai oh i nostri gusci sono tornati e anche il mio bastone da buu ha funzionato buu buu ho un'idea bigo andiamo le faremo personalizzate ritagliamo le lettere dal pomiram di come donatello e ora passiamo alle pibbie drum trick usiamo la colla a caldo per collegare le parti tra loro perfetto e aggiungiamo un contorno fatto colleghiamole con le cinture fantastico ragazze venite qui ti ricordi della dinamite vero? la porterò in battaglia fredderai nei guai ok non ne sono sicura questa volta non vi lascerò andare stupide tartarughe come osi prova a schivare questo sredder arrenditi se non vuoi che questo posto salti in aria sì Mike ma che c'è che non va in quell'accendino fallo esplodere siete sfortunati tartarughe oh ma dovrebbe funzionare aspetta un attimo cosa dice a me d'accordo ho un attimo solo ho un'app che dovrebbe funzionare ecco qua sei semplicemente insopportabile dammela drum trick ora sono arrabbiato addio non così in fretta pezzo di perro prendi questo wow che figata la mia testa abbiamo vinto ben fatto Donnie niente imprese senza pizza qualcuno mi aiuti per favore ho fame voglio andare a casa sembra che qualcuno stia aspettando le tartarughe e il malvagio shredder ha in mente qualcosa i tuoi salvatori cadranno nella mia trappola mi occuperò di loro soprattutto perché ho un piano fantastico quei piccoli ninja non mi ostacoleranno più tutto il mondo criminale saprà della mia invenzione è ora di preparare la mia arma segreta cucù lo sapevo che eri qui ti aspetta una trasformazione magica la formula sta funzionando wow troppi ogm salve sono la prima mega fly chi ha risvegliato il mio intelletto quindi è reale non credo ai miei occhi evviva un esercito di insetti giganti ci conquisterà il pianeta oh no ha finito il mutagene non volare via va bene darò un'occhiata in giro oh interessante ciao abonga non piangere siamo professionisti con noi sei al sicuro fantastico sono una vostra fan oh shredder ha creato un mostro sapevo che era troppo semplice ora fermi non avresti dovuto metterti in mezzo andiamo a conoscerci meglio con piacere sono molto rapido fagli vedere chi sei Leo vieni Alice i bambini non devono guardare tutto questo abbiamo bisogno di aiuto ti piace? allora abbiamo appena iniziato ti presento le mie capane tocca a me il trucco di Michelangelo è tutto tuo rap che sfortuna buh abbi pietà spero che le mie tartarughe stiano bene oh non puoi più scappare sei finito playzilla lo abbiamo rieducato gli sta bene i ninja spaccano ora tocca a me intrupolarmi nel territorio nemico tattica sbagliata ehi ninja chi è quello? consegna per voi chi di voi ha ordinato una pizza? io non sono stato non guardate me e forse Mike boh chi se ne importa non esistono troppe pizze non avete fame? avanti prego e buon appetito cibo degli dei deliziosa e la salsa è piccante che devo fare adesso? non mi ricordo meglio dei broccoli della mamma conosco quella fiaschetta ho dimenticato che devo fare oh no è shredder oh no shredder 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 si mi avete beccato sono shredder sono proprio shredder nascondiamoci adolescente contro una mente criminale chi sarai il primo a finire in una zuppa di tartarughe? non sei ancora stanco di parlare le mie spade d'acciaio vogliono salutarti beh vediamo che sai fare non ho neanche avuto il tempo di muovermi da ogni aiuto tu crei solo problemi impiccati oh il piccolo Mikey non avrei dovuto lasciarti da solo con quell'uomo terribile qualcuno deve andare ad aiutare qui ragazzi ho deciso Alice si metterà al lavoro le mie forbici preferite sono sempre a portata di mano tagliamo un piccolo pezzo di tessuto verde fase numero 2 facciamo dei segni con un pennarello le forbici mi aiuteranno e ora tracciamo un contorno voilà ripetiamo la procedura e disegniamo un altro ovale e poi ritagliamoli la maschera da ninja è pronta ecco il quinto membro della squadra kawabunga! davvero? non mi hai fatto niente un vero guerriero può risolvere qualsiasi problema quindi io sto improvvisando sei morto? ehi calma ti shred era solo un modo di dire facciamo la pace questo lo prendo in prestito la pozione è mia ha vinto ora ti roio sotto controllo il mutagene stai bene? insomma mica tanto guarda un'altra tartaruga ninja la ragazza non è una schiapa vero Raffaello? sono qui per aiutare faccia a faccia con Shredder non conquisterai più il mondo ops sono maldestra il mio alisir te la sei cercata piccola birritina stai attenta grazie per l'idea Mike smack sta nascendo qualcosa parte quindi Shredder voleva combattere contro Super Pizza? incredibile viva! ce l'abbiamo fatta! arrenditi ma che vuoi? questa sì che è una pizza come si deve boom! calmati capolavoro culinario presto neutralizzerò la tua pizza ciao! come al solito sono il migliore! no! mi batterò con chiunque per la mia pizza hai superato il limite amico tartaruga riunitevi! gauwabunga! perché lanci sempre dei giocattoli gancio destro? di ciao al tuo bastone! prendi questo ben fatto! avanti! sei un po' troppo vecchio ehi! oh no! sono circondato! ok! devo sparire magicamente! ta-da! cosa? che peccato! beh! io non c'ero qui! molto cringe! successo! oh! che case meravigliose! mi hai spaventata! ho fatto del mio meglio? caia! ah! è un mostro verde o cosa? ehi ragazze! chi vuole la pizza? pizza per te? no! l'immaginavo! inizio con la pittura Mano! sei così gentile! per mia fortuna so fare le magie! un triste rullo! tutto qui! oh! giusto! mi è venuta un'idea! il rullo è magico ora! posso ripingere tutto in un attimo! guardate la magia! voilà! le cose sono tutte ripinte! Nunchucks! è il nostro momento! scusate ragazze! è verde! è stato un incidente! questo non lo sarà! che ne dici di una pizza? oh! la casa è finita! grazie mille! qualcuno vuole una pizza? no! guardate ragazze! oh! una farfalla! farfalla? stai rovinando la mia tavolozza nera! cosa? scusa mercoledì! voglio solo prenderla! un secondo! presa! sarai il miglior pezzo di design di sempre! ti presto anche la mia vernice! nero! mercoledì! non sono stata io! lo so che sei stata tu! nessun problema! i colori vivaci possono sistemare praticamente tutto! oh! mi servirebbe un casco! tutto a posto! bene! dovrei fissare bene la scala! ecco fatto! così non farà più male a nessuno! ok! il casco va tolto! la porta più sicura è il coperchio del tombino! bello! ora sembra di essere a casa! oh! dovrei chiudermi! cosa c'è che non va nella mia bacchetta? andiamo! bacchetta sbagliata! ecco cosa mi serve! ciao peluche! ha funzionato! che te ne pare? sono allergica a tutto ciò che è carino! oh sì! ecco le finestre! e ovviamente le persiane! è ora di illuminare il cuore della casa e installare la porta! c'è qualcosa che non va? oh sì! un pomello perfetto! dal profondo del mio cuore! bello! ne voglio uno anch'io! il mio cuore sarà a forma di pizza! la mia tavolozza ha abbastanza tonalità scure per un altro capolavoro! albero! sorveglia la mia porta! ok? oh! qualcuno l'ha visto? sto solo disegnando tutto qui! ma io sono molto più brava in arte! che la forza dei graffiti sia con me! oh sì! un ultimo tocco! Gawabonga! il mio pezzo ha bisogno di una cornice! wow! sembra di essere in un museo di strada! il mio capolavoro! Bloom! che ne pensi? wow! è favoloso! ora dovrei mettere la bandiera! è bene in alto! ho trovato questo però! Mickey! ci siamo quasi! ce l'hai fatta! non preoccuparti! vai! impavida tartaruga! sì! ce l'ho fatta! sono forte! a quanto pare essere una bandiera non è una cosa così importante! sono l'ultima! oh! ho bisogno di una fontana! oh! meravigliosa! accenditi! si rifiuta di farlo! ho bisogno di un'altra bacchetta! vai! non questa! vai! ancora una volta ho sbagliato! ehi Bloom! ecco che ti serve! una nuova bacchetta magica! grazie! ma sei seria? faccio io! modifichiamo qui! ta-da! acqua senza problemi! wow! anche tu fai magie! grazie! nessun problema! quando vuoi! è l'ora della pizza! che sapore divino! peccato sia finita in fretta! ma ho ancora la scatola! dovrebbe andare bene! dipingiamola! bella casa! e un ponte! caspita! è la migliore città della terra! oh sì! è incredibile! mercoledì! sto facendo giardinaggio! sciò! decorerò la panchina! le zucche hanno un posto speciale nel mio cuore! manca qualcosa! ragnatele! ho bisogno di un tocco di oscurità! oh sì! adorabile e stravagante! anche io voglio un giardino tutto mio! iniziamo con un sentiero! niente di inquietante! ora aggiungo dei cescugli! e i miei meravigliosi amici! oh! adorabile! santo campanellino! l'ho preso! è mio! scusami! stai ferma, lanterna! oh yeah! scusami! oh no! ecco! ecco! ecco!